Il processo di concordato è un processo che va condiviso da tutti e sui tutti dobbiamo contribuire per la buona riuscita, quindi quello che posso fare è sicuramente un appello affinché tutte le parti possano lavorare nell'ottica dell'azienda, nell'ottica di mantenere l'azienda pubblica, nell'ottica anche di garantire un servizio alla città che sia progressivamente migliore. Sicuramente io come assessore sto lavorando su un piano in questo momento diverso rispetto a quello che dicono i radicali quindi è chiaro che io voterò un no evidentemente ma perché? Perché sto lavorando su un percorso che punta a risanare l'azienda che è un percorso che risponde alle esigenze di oggi e non alle esigenze di un futuro. Tutto da definire, io questo lo voglio sottolineare 100 volte, la gara non è la soluzione di oggi. Grazie a tutti.